calignaia 7 agosto 2019 la giornata era così e così è un po nuvolosa con il sole nascosto dalle nuvole poi piano piano cielo si è aperto però il vento ha continuato a soffiare in modo vigoroso e la risacca era parecchio violenta quando il mare è leggermente incrispato a calignaia è sempre possibile fare il bagno pur che ci si butti dalla spiaggia il fondale della baia è basso e smorza le onde minimizzando la risacca è invece più complicato fare il bagno stando sugli scogli ai fianchi della baia non è difficile entrare in acqua e nuotare il problema è rientrare a riva senza farsi male sugli scogli a causa della risacca occorre saper nuotare bene avere maschera scarpetti da scogli non avere fretta conoscere il fondare e sapere sempre che cosa si sta facendo importante aspettare il momento opportuno di solito di brevissima durata che però permette una rapida risalita minimizzando di solito i rischi un saluto ciao grazie 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 grazie